è giovanni giambertone a chiamarci sconsolato in redazione ha subito l'ennesimo furto nel suo negozio di via saragata collecchio e nelle sue parole c'è l'amarezza di chi non ce la fa più sono anni che ciclicamente la sua boutique piena di costosi capi firmati viene presa di mira dai malviventi l'ultimo colpo la scorsa notte erano da poco trascorse le tre quando i ladri hanno divelto le vetrine di giambertone e in pochi minuti sono riusciti a trafugare merce per un valore di oltre 80 mila euro l'entrata in funzione del sistema d'allarme non ha dissuaso i malviventi che hanno portato a termine il colpo prima di sparire all'arrivo dei carabinieri non c'era più nessuna traccia dei malviventi sempre per la cronaca e sempre i carabinieri hanno arrestato e tradotto in carcere un 36enne residente a parma già noto la giustizia reati maltrattamenti in famiglia lesioni personali e distorsione i militari a seguito della denuncia della compagna dell'uomo hanno accertato evidenti e reiterate violenze commesse nei confronti della donna tra il febbraio 2014 e l'aprile scorso acquisendo tutti gli elementi che hanno consentito al gip del tribunale di parma di mettere un'ordinanza di custodia cautelare in carcere l'uomo con ripetute violenze morali e fisiche tra cui la frattura del setto nasale riusciva a tenere la donna in stato di soggezione e storcendole anche somme di denaro Grazie L'ennesima tragedia avvenuta nel canale di sicilia oltre al dolore all'emozione provoca anche il solito scontro politico e poi rimane il tema dei migranti accolti nelle città italiane anche parma si appresta a ricevere altri rifugiati oltre ai 315 già ospitati in provincia e i nuovi arrivati presto potrebbero essere ospitati nella ex scuola di castelnuovo di proprietà del comune che la concesse incomodato gratuito alla prefettura saranno questi temi al centro della puntata di domani sera di parma europa in onda in diretta alle ore 21 dopo il nuovo dramma del mare avvenuto ieri tornano inevitabilmente anche le polemiche la politica ha scritto il sindaco pizzarotti da il peggio quando sfrutta i problemi i drammi cercando di addossare le responsabilità alla parte avversa lo abbiamo visto fare a tutti negli anni persone che hanno avuto responsabilità di governo e dalle quali dice il sindaco ci si aspetterebbe rispetto e comprensione ma la politica è diventata solo pancia recriminazioni mentre oggi nel canale di sicilia regna un silenzio surreale non penso che persone che abbandonano tutti in nome di una speranza continua il sindaco possano avere colpe sperano qualcosa di meglio per sé e soprattutto per i propri figli questo li porta a intraprendere un viaggio che in un passato ormai lontano anche il nostro popolo ha più volte affrontato e voi che ogni giorno latrate contro gli immigrati come origine di tutti i problemi chiude il sindaco chiedetevi se nel profondo provate almeno un po' di vergogna e di dolore questa l'accusa finale dibattito aperto domani sera in diretta alle 21 a Parme Europa chiedetevi